Ciao a tutti, siamo qui con Paolo Lanzoni e questa è la nuova Mercedes classe A, completamente diversa rispetto alla generazione che l'ha preceduta. In che cosa si distingue questa nuova generazione partendo dall'estetica e poi arrivando alla meccanica? Sì, finalmente una nuova Mercedes, una vera e propria rivoluzione, quindi una nuova Mercedes, una nuova vettura, ma anche una nuova iniezione di sportività nel nostro marchio. Una vettura che non avevamo in gamma e che ci aiuterà a conquistare un pubblico più giovane che ad oggi nelle nostre vetture non trovava la soluzione ideale. Che cosa può offrire la nuova classe A? Prestazioni, consumi ridotti, basso impatto ambientale, ci dica? La classe A è un concept completamente nuovo per Mercedes, abbiamo una gamma motori che parte dai 109 ai 211 cavalli con motorizzazioni benzina e diesel. Motorizzazioni diesel da 1.600, da 2.000 di cilindrate e motorizzazioni benzina da 1.800. La cosa importante è ovviamente consumi contenuti e anche emissioni, emissioni addirittura sotto i 100 grammi di CO2 per la prima volta nella storia di Mercedes. Parliamo di sicurezza, sicurezza di serie, la prendiamo tutti i sistemi dalle gamme superiori, pensate su una vettura compatta abbiamo di serie la tension assist, quindi la vettura ci avvisa quando ci stanchiamo, la vettura con il radar anticollisione di serie ci aiuta nella frenata di emergenza, abbiamo ovviamente anche il pre-save, quindi la vettura riesce a leggere situazioni pericolose e prepara tutti i sistemi di sicurezza di bordo, tutto questo lo troviamo di serie. L'altro aspetto per attirare i giovani è ovviamente le connessioni di bordo e la telematica. La classe è la prima vettura in assoluto dove tutte le funzioni del nostro smartphone, dell'iPhone, sono completamente integrate nell'infotainment di bordo, con uno schermo bellissimo, un mini schermo al centro della plancia, divertente e che si può ovviamente attivare anche con i comandi vocali, questo quindi in totale e massima sicurezza. A tutto questo vediamo il design, un design dilompente, completamente nuovo per il marchio Mercedes.